C'è gente che fa cose orrende, stupra, uccide, tortura. Ancora più drosso. Nessun metallaro da quattro soldi potrebbe fare una cosa delizia. Questa è una ricordata miccia. Io invece che scavo di recessi più profondi e marchi nella mia anima, ormai 13 anni, cerco quei brandelli di umanità che ancora rimangono nel mio corpo. Questa è una ricordata miccia. Questa è una ricordata miccia. Questa è una ricordata miccia. Questa è una ricordata miccia.